Quest'oggi ho trovato una base hacker segreta, così all'avanguardia da poter entrare nei sistemi di Minecraft e creare degli oggetti incredibili. Al suo interno troviamo tante stanze accessibili tramite ascensore e ognuna di esse avrà uno scopo ben preciso. Quindi questo è il ponte d'accesso per la base segreta hacker? Ok, vediamo. No, non ci posso credere. Ok, benissimo. Come potete ben vedere ragazzi, è super sorvegliata. Ci sono dei laser, ma io per fortuna ho i permessi perché sono un imperatore. Quindi possiamo entrare e accedere all'interno della base. Oh mio Dio, la tecnologia si spreca. Allora, hack di velocità per 30 secondi. Ok, proviamo. Wow! Oh, così posso andare in giro per la mappa molto più velocemente. Mi piace, è comodo. E ci sono anche due macchine che però, scusa, per un hacker io mi aspettavo delle macchine migliori. Cosa sono queste macchinine brutte e vecchie? Cioè, mi aspettavo una Ferrari, una Lamborgotti. No, niente. Vabbè, pazienza. Allora, da questa parte che cosa c'è esattamente? Fammi vedere. Credo ci sia tipo il fuori. Sì, ok. Puoi uscire da qua o puoi entrare. Un'altra entrata o un'altra uscita. Oh mio Dio, mi stava tagliando la testa il garage. Ok, e qua sotto invece entriamo nella vera e propria base. Togliamo i laser di sicurezza. Diffico... Ah, possiamo cambiare la difficoltà? Ma pensa un po'. E soprattutto... Qua che cosa c'abbiamo? Oh mio Dio, perché sto levitando? Che cavolo? Cosa sono? Tony Stark? Sono diventato Iron Man? Wow! No, questo è un modo fighissimo per spostarsi. Cioè, levitare, volare, ragazzi. Fly hack. Eh sì. Ok, ora le ho tolte. Quindi così posso camminare. Fantastico. No, aspetta. C'è un ascensore. Mi... No, non è vero. Va bene. Quello lo guarderemo dopo. Allora, diamo un'occhiata alla stanza di Mining. Quindi qua si scava. Mi butto? Bene, c'era la piscina. Molto comodo. Hanno pensato veramente a tutto. E c'è un computer. Un laptop. Oh, oh, oh. Che cosa ho fatto? Ragazzi, vi giuro che l'ho soltanto acceso. Non ho fatto nulla io. A che raggio degli oggetti? Eh... Cosa? Non è vero. Piccone Fortuna 32. Efficienza 32.767. Stai scherzando? Mi ha dato degli oggetti hacker. Ma che figata. E questo invece? No! Non è vero. Con questo pulsante posso direttamente auto scavare tutto. E come vedete gli oggetti vanno direttamente all'interno dell'hopper. Così poi vengono trasferiti nella cesta. E non devo faticare. È bellissimo. Guarda! Clicco il pulsante. Boom! E scavo tutto. E se invece volessi utilizzare per esempio il mio piccone? No! Wow! Che velocità! E chiaramente gli oggetti così si triplicano. Anzi che dico si triplicano. Si quadruplicano. Deciplicano. Perché chiaramente c'ho Fortuna 32. Velocità. Hack. Ok. Stiamo scendendo ancora. Nei sotterranei questa volta. E che cosa ci sarà qua? Velocità? No! Mi dà anche aste. Quindi secondo me adesso scaverò la velocità della luce. Siete pronti? Oh porca miseria. No 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 ragazzi! Ok non si vede nulla. Ma avete visto che velocità ha? Cioè guardate. Io adesso mi metto qua. Trrrr! Come se fosse tipo netherrack. Pazzesco. E di qua si sale sopra. Beh ragazzi potrei abituarmi alle basi hacker sinceramente. Ah qua presumo che si combatta. Quindi hackeriamo sempre il nostro computerino. Che ci dovrebbe dare degli oggetti. Nel frattempo selezioniamo i mostri Allora, zombie, no, scheletri, no Streghe? No, neanche Endermite, vindicator Ok, facciamo così Facciamo zombie Esponiamo per adesso uno, magari Moderato Prendiamo gli oggetti Cosa? Affilatezza 32.767 Ragazzi, sono troppo forti questi oggetti Ok, proviamoli Siete pronti? L'ho fatto volare, ragazzi L'ho fatto volare con una singola freccia Allora, sponiamone di più Quanti ne sponiamo? 25? E 25 sia Oh mio Dio, ok, sono tanti adesso Però guardate che divertimento, ragazzi Con le frecce li posso ammazzare tutti quanti in questo modo Muori e muori Oh, è rimasto un piccolino Addio Benissimo, anche le spade hacker devo dire che non mi dispiacciono Ehi, e tu cosa pensi di fare? Torna nell'oltretomba Ehi, ma quanti sono? Scusate? Bene, apriamo l'ascensore e andiamo da qualche altra parte Piano 1 Che cosa c'è qua? Allora, c'è la stanza dei villager La stanza delle pozioni La stanza delle ceste E il ristorante Come il ristorante? Salve Per caso tu Snacks e drinks Non è vero Ti vende? Non ci credo Hanno pensato proprio a tutto Aspetta Mi devo svuotare un attimino l'inventario Togliamo tutti questi lapislazzoli che non mi servono a nulla Voglio comprare qualcosina Però le pepite Eh, dovrei cucinarlo prima Vediamo, vediamo Aspetta C'era la stanza delle ceste Vuoi che nella stanza delle ceste non ci sia tipo Una fornace o qualcosa? Sì, infatti ci sono Ok Bel magazzino Non male Mettiamo quindi il carbone Mettiamo questo E lo cuciniamo Queste ceste sono piene? No? Beh, che delusione però Io un po' di questi diamanti nell'ender chest Li metto Ecco Questo lo trasformiamo in pepite E adesso andiamo al ristorante Cioè, è praticamente come avere un McDonald's a casa tua Grazie, vorrei ordinare una torta E anche dei biscotti Ma non ci credo Ma perché hanno fatto un ristorante? Andiamo al piano numero due Il piano giallo C'è l'acquario Il portale del nether Il salotto E anche gli alberi dei minerali Che cosa sono gli alberi dei minerali? Mi stai prendendo in giro? Oh mio dio No ragazzi, solo un hacker potrebbe fare una roba del genere Posso scavare i minerali? Cosa? Ok, come se fossero degli alberi Ma dai L'albero dei diamanti Ma è bellissimo Ma è bellissimo Ho sempre sognato di farlo Oro Redstone Carbone E ovviamente anche Gli smeraldi Fantastico E li raccogliamo tutti E crescono alla velocità della luce Guardate Si sono già rigenerati Fenomenale Qua invece c'è l'acquario Molto molto bello Quindi è un acquario di quelli che ci puoi entrare dentro E nuotare con i pesci Ma è carino dai Molto bello esteticamente Però c'è una pecca Mi aspettavo che Potessi nuotare qui all'infinito Senza che mi andasse via Il respiro E invece no Quindi non è proprio super hacker Dai Potevi metterglielo Un condotto O qualcosa che mi permettesse di respirare sott'acqua Cioè mi sembra veramente una cosa basilare Eh Abbasso un pochettino La mia votazione Qua c'è un portale invece del nether Che lo attivi così Semplicemente cliccando Ah e lo puoi spegnere anche Acceso Spento Ma pensa te Vediamo gli altri piani ragazzi Sono curioso Piano numero tre Ah qua ci sono le farm Farm di alberi Animali E anche di piantagioni E anche il bagno Certo che però Se devo andare al bagno Ogni volta mi devo fare tre rampe di scale O devo prendere l'ascensore Non so se è molto comodo Ok ecco il bagno Piuttosto bellino Devo dire la doccia Vediamo funziona l'acqua Sì che funziona Fantastico A me queste cose ragazzi Mi fanno impazzire Quando pensano anche ai minimi dettagli stupidi Come per esempio l'acqua nella doccia Io impazzisco C'è poco da fare Allora Ah questi sono alberi veri e propri Quindi io Schiaccio qua i pulsanti E posso ottenere tutta la legna che voglio E li posso anche ripiantare Ah Perfetto Guardate Così li ottengo E così li ripianto Bell'idea Bell'idea Presumo che la stessa cosa funzioni anche per queste no? Ok però questa è una farm normalissima Che conosciamo tutti quanti Ok togli l'acqua E adesso li possiamo ripiantare Semplicemente così Guardate Puff Wow Il futuro ragazzi Il futuro Ok è arrivato il momento di dare un'occhiata all'ultima stanza Il piano 4 Qua secondo me è dove si ci diverte E infatti ci abbiamo La piscina La stanza per le feste E la camera da letto Ok stanza per le feste Cioè Che significa In che senso? Ah ci sono proprio Tipo una festa di compleanno Guardate C'è la sala da ballo Il set del DJ Ci sono perché sono i dischi musicali? No Niente Ancora tu Ma quanto ti pagano? E poi subito dopo Arrivi direttamente in piscina Che figata ragazzi È bellissima Wow Veramente super super bella Questo è il trampolino Oh mio dio Ti fa saltare No Non lo sapevo Che figata E ci sono anche dei trampolini ancora più alti Tipo questo Wow Aia Dovete lavorare sui ciambelloni Sono troppo duri Qualcuno si potrebbe far male Qua c'è il balconcino Con la bella vista Più o meno Bella E c'è ancora un'altra rampa di scale Che dove mi porta? A questo punto presumo sul tetto della base hacker No? Ci sarà qualcosa qui Oh c'è tipo Una pista di lancio e di atterraggio Con un computer Vediamo Okeriamo il computer Che cosa esce fuori? Oh oh L'elitra hacker Non ho mai provato l'elitra hacker Indistruttibilità 32.000 Riparazione 32.000 Certo come giusto che sia E adesso Spicchiamo il volo Ciao Wow ragazzi Questa base hacker Era veramente Pazzesca La più bella che io abbia mai visto In tutta la mia vita Vi darei le coordinate ragazzi Ma poi non sarebbe più segreta Quindi facciamo così Lasciate un mi piace E se questo video Dovesse superare i 10.000 mi piace Vi darò il sito di questo mondo Con le coordinate Ok? Adesso credo sia arrivato il momento Di chiudere questo ponte Sennò chiunque Potrebbe entrare Ok molto meglio Ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate un super mi piace Se è così È stato Aiaiaia Oh fermi Allora io c'ho queste eh Io c'ho queste Siete sicuri? Guarda che vi ammazzo a tutte e due Vi faccio Vi faccio finire Eh? Prendi questo E prendi questo Lasciate un mi piace Ciao Ciao